Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano, il maltempo è il protagonista in questi giorni di fine novembre con un susseguirsi di perturbazioni che hanno messo nel mirino l'Italia, portando sia temporali forti che tanta neve sui rilievi. Vediamo però ora in dettaglio quali sono le previsioni per la giornata di domani, giovedì 30 novembre, con l'ausilio della grafica accanto. Rovesci e temporali intensi al mattino interesseranno soprattutto i settori tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria, mentre piogge sparse e nevicate fino anche a bassa quota caratterizzeranno il tempo al centro-sud come al nord-est. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni meridionali, con i fenomeni più intensi attesi sempre sul tirreno, mentre sulle zone interne centrali come su quelle nord-orientali, piogge sparse e neve fino al fondo valle sulle Alpi saranno protagonisti. In serata e poi in nottata, rovesci e temporali continueranno a bagnare il sud Italia, mentre sulle altre regioni il tempo rimarrà più asciutto, salvo un progressivo peggioramento ad iniziare dalla Toscana e dalla Liguria di Levante. Per quello che riguarda le temperature, queste tenderanno a calare sia nei valori minimi che in quelli massimi, ad iniziare in particolare dal centro-nord. Per avere le previsioni dettagliate sempre aggiornate per le vostre località, vi invitiamo allora a visitare il nostro sito oppure a scaricare la nostra app gratuita Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano!